Maria Paola Petruccioli è il nuovo amministratore unico di Coingas, la prima donna nella storia della partecipata del comune di Arezzo. La sua nomina necessaria dopo le dimissioni di Franco Scortecci è stata votata ampiamente dalla maggioranza, ma i sindaci di centro-sinistra si sono astenuti. In particolare si contesta il metodo. Un percorso non condiviso dal comune di Arezzo ha dichiarato il sindaco di Lucignano, Roberta Casini, ai microfoni di Arezzo 24. Non ci hanno convinto le dimissioni di Scortecci, manovre interne al centro-destra che non dovrebbero coinvolgere le partecipate, che erogano servizi importanti per il territorio e i cittadini, denunciamo il metodo. Credo che la decisione di Scortecci sia stata libera e legittima, afferma invece Petruccioli, così come libera e legittima è stata la proposta da parte del comune di Arezzo del mio nome. È un nome indubbiamente vicino all'area civica di centro-destra che ha sostenuto l'ultima elezione di Alessandro Ghinelli. Strumentalizzare la mia nomina, conclude la Petruccioli, non serve davvero a nessuno.